Ciao e benvenuti a tutti. 1, Ultima Stella 87. Set 27 trasmette se viverai 2? No, perché Mediaset non la farà mai. Rai Laura, Mediaset sedere, Sky Capello e Discovery Aereo di carta, no. Supero Italia 2? Tutti e due. Se Warner TV trasmette se Haunted? Forse no. Fabrizio Cristiano De André, nato a Genova il 18 febbraio 1940, e morto a Milano l'11 gennaio 1999, è stato un cantautore italiano. Pocahontas è un film d'animazione del 1995, prodotto dalla Disney e diretto da Mike Gabriele e Derrick Goldberg. E due, Mattia. Rai 1 o Rai 2? Rai 1. Mario Tennis e Isis, è l'ottavo capitolo della serie Mario Tennis, uscito per Nintendo Switch il 22 giugno 2018. Mario Tennis è un videogioco sportivo pubblicato nel 2000 da Nintendo per Nintendo 64. Se Rai 1, 2, 3, 4, 5, Moody, Premium, Gulp, Yo-Yo, News 24, Storia, Sport, Scuola, 4K, Sud Tirole e Ladini a chiudessero nel 3058, succederebbe una super duper hyper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. Riusciremo a vedere Radio Norba Sport e riusciremo a rivedere il logo del 2009 di Radio Norba e del 2012 di Radio Norba TV. Lo scopriremo prossimamente. Radio Norba Music, nato dopo la nascita di Radio Norba, è un'imittente radiofonica di Radio Norba dedicato alla musica. Se nasce è sera e sera? No. Ed è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.